Chi entra in contatto con la sapienza di Dio, questo mangia e beve. Ci sono nei libri sapienziali, soprattutto nel libro dei Proverbi al capitolo ottavo, questa scena in cui si immagina che la sapienza di Dio, quella che era con Dio prima che venisse creata ogni cosa, quella sapienza che è stata l'ispiratrice di Dio nella creazione con la sua bellezza, questa sapienza prepara un banchetto di vini deliziosi, di cibi succulenti e la sapienza invita a mangiare, venite a mangiare, venite a prendere senza denaro vino, latte, pane, carne, è espresso in tante immagini molto belle in tutto il corso dell'Antico Testamento e allora comincia a trasparire che cosa? che il cibo col quale dobbiamo nutrirci, il pane della vita, il pane di Dio, il pane disceso dal cielo è Gesù stesso, non semplicemente il pane di orzo che lui ha moltiplicato, ma lui stesso in quanto è la sapienza di Dio che insegna all'uomo il cammino di Dio, questo è il pane disceso dal cielo, questo è il pane disceso dal cielo, il pane della vita che è capace di dare la vita, Gesù dunque come sapienza, Gesù non è solo colui che ha moltiplicato certi pani un certo giorno sul lago di Tiberiade, ma Gesù vuole essere mangiato nella sua sapienza, nella sua intelligenza, nel suo insegnamento, è questo che è il nutrimento superiore per l'uomo, non è un pane in più di questo mondo, è un pane che deve venire da lui. Lo accenno appena per non occupare tempo, anche nei profeti la parola di Dio è interpretata come qualcosa che sfama e che disseta, per esempio nel celeberrimo capitolo 55 di Isaia, voi avete, o voi tutti che siete assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte, eccetera, poi oro in provero, perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia, su ascoltatemi e mangerete cose deliziose, è il profeta Isaia che come la sapienza invita coloro che lo stanno ascoltando a nutrirsi, a comprare gratuitamente, dove potremo comprare il cibo per sfamare tanta gente, diceva Gesù, vedete che è un'allusione proprio a questi testi. Allora il discorso comincia a mostrare ciò di cui noi ci dobbiamo nutrire, è Gesù stesso, Gesù stesso non è solo colui che ci fa dei doni, ci fa delle guarigioni, ci dà delle ispirazioni, Gesù è lui stesso il nostro nutrimento e qui Giovanni, l'evangelista, usa il cuore della sua teologia. Qual è il cuore della teologia di Giovanni? Il versetto 14 del primo capitolo, la parola di Dio, che era sempre presso Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù si presenta a noi come qualcosa che può essere divorato e un uomo come noi è qualcosa che può essere assimilato ma dentro di sé ha la parola di Dio, la vera parola che scende dal cielo. In principio era il verbo, la parola, era presso Dio e la parola era Dio e la parola si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria. È questo che Gesù sta proponendoci come cibo. Chi viene a me non avrà più sete, chi crede in me non avrà più fame. Allora qui Gesù è andato veramente un passo avanti notevolissimo e la prima grande rivelazione è avvenuta. Il pane è disceso dal cielo e Gesù, parola di Dio, figlio eterno di Dio, veramente celeste, veramente pieno di vita. Nel prologo di Giovanni, subito dopo le prime parole che ho già citato, avete la frase al versetto 4, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Allora si vede benissimo, questa è la decisione che dobbiamo prendere. Non semplicemente stare davanti a Gesù chiedendo a Gesù le cose che a noi, secondo noi, ci servono. Questo è un atteggiamento di preghiera legittimo, ma iniziale, imperfetto. A questo credente Gesù dice tu non mi stai cercando per i segni, tu mi stai cercando perché speri di sfamarti come ti sei sfamato tutti i giorni col pane di tutti i giorni. Attraverso questo stupendo insegnamento Gesù ci vuole insegnare che andando verso di lui dobbiamo dilatarci davvero, dobbiamo mangiare un pane che viene dall'alto, non delle pagnotte che cascano dal cielo, ma che sono sempre pagnotte terrene. Se vogliamo diventare celesti dobbiamo nutrirci di un cibo che venga veramente dal cielo e l'unica cosa seria che viene veramente dal cielo è il figlio mandato dal padre, è la parola eterna di Dio che discende tra di noi. Ma è questo che è decisivo assimilare nella nostra vita. Questo discorso è veramente splendido e impegnativo. L'Antico Testamento lo aveva presentito nel libro del Deuteronomio soprattutto, che cosa si dice? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E Gesù quando sarà tentato da Satana all'inizio del suo ministero combatterà con Satana che gli dice che queste pietre diventino pane e Gesù risponde sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo. Ma anche quel momento della tentazione di Gesù è rivelativo, perché se Gesù moltiplica, prende una pietra del deserto e la fa diventare un pane e se la mangia, Gesù sta semplicemente a livello del quotidiano. Ha mangiato un pane straordinario ma ordinarissimo. Se Gesù nel deserto si sfama di una pietra che lui ha fatto diventare pane, è tutto eccezionale ed è tutto banalissimo. Alla fine avete Gesù che si mangia un panino, miracoloso ma sempre panino è. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E nel deserto Gesù non fa questo facile miracoletto per saziare la sua fame. Continua nella prova del deserto, vuole assimilarsi a quello che veramente viene dal Signore. Senza poterci adentrare in tutti i vicoletti di questo discorso splendido rimando al secondo apice. All'improvviso Gesù dichiara e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Vedete che qui c'è un salto. Gesù ha già detto che lui è il pane disceso dal cielo per dare la vita, ma adesso quasi cambiasse idea, mette una specie di aggiunta. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Questo è un nuovo passaggio. sono parole molto semplici, ma all'improvviso Gesù svela che darà la sua stessa carne. Quello che abbiamo detto finora si potrebbe riassumere con una frase un po' astratta in questo modo. Gesù ci nutre, è per noi il pane della vita, perché è la parola eterna di Dio incarnata, fatta uomo come noi. In questa sua incarnazione, in questa discesa dell'eterno figlio di Dio tra di noi, avviene il nutrimento dell'uomo, per cui l'uomo se assimila l'incontro col verbo di Dio incarnato, questo uomo diventa veramente capace di salire verso Dio, di salire verso il cielo, di salire verso l'alto. Se si assimila a questo Gesù incarnato, allora sì, davvero che si nutre del pane che viene dal cielo, del pane della vita. Ma qui è aggiunta un'altra cosa. Perché Gesù dice che il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo? Perché ciò che ci nutre non è solo l'incarnazione, ma esattamente quella che noi chiamiamo la Pasqua di Gesù. Ancora una volta, scusate se sono noioso e ripeto i richiami, quel versetto 4, era vicina la Pasqua dei Giudei. La Pasqua di Gesù non c'è ancora. Ma il nutrimento dell'uomo allora, ancora più in profondità, non sarà semplicemente il nutrirci della parola di Dio che è dentro Gesù, assimilare noi a Gesù. Ma dovremo nutrirci della carne che Gesù offre per la vita del mondo. Cioè dovremo nutrirci della morte di Gesù. Non solo dell'incarnazione, ma del fatto che colui che si è incarnato ha offerto la sua vita, ha donato la sua vita per tutti noi. Il dono di Gesù non è solo che da cinque pani d'orzo ha potuto sfamare cinquemila uomini, cioè oltre ventimila persone. Ma il dono che lui ci fa è la sua stessa persona e la sua capacità, una volta diventato uomo, di offrire gratuitamente la sua vita per noi, di morire per noi. Allora Gesù è il pane di Dio. Il pane di Dio è Gesù nel suo essere la parola incarnata, ma nell'essere anche la parola incarnata che dona a se stesso. Si offre nella morte per amore. Dunque, se in maniera un po' di dascalica, forse un po' troppo, io domandassi ma qual è il cuore del dono di Gesù? Io direi così, alla fine, il dono del cuore di Gesù è la carne assunta nell'incarnazione. Il figlio eterno di Dio, che è senza carne e puro spirito, nell'incarnazione assume dentro di sé la realtà dell'uomo, la carne, dal grembo virginale di Maria. Questa è la grande collocazione della Vergine Madre, che lei è stato il punto dal quale il figlio ha preso su di sé la realtà dell'uomo, se volete, dico la natura umana, ma per stare a questo livello, la carne, quella realtà così pesante, così bella e così pesante che siamo tutti noi. Al cuore del dono di Gesù ci sta la carne assunta nell'incarnazione, ma anche la carne data nella Pasqua, perché Gesù è morto per la cattiveria di tanti uomini che lo hanno alla fine massacrato, ma Gesù è entrato liberamente, ha donato la sua vita, come dice appunto nel Vangelo di Giovanni, nessuno me la strappa, sono io che la offro questa vita. E allora qui è interessante vedere la difficoltà anche di questo discorso. Per ora io ho cercato di descrivere il dono di Dio, tra un attimo andremo alla risposta. In questo testo poi c'è una cosa che mi stavo dimenticando di dire, la carne, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, prima dice carne, che va molto vicino a pane, ma poi farà il raddoppiamento, carne e sangue.